Ciao, sono Barbara, questo è uno short back to school e questo è un coso. Ok, è un rotolo di sembra scotch, ma in realtà sono pallini. Sono dei dot adesivi. Ne taglio un pezzo per essere più comoda. Questi piccoli adesivi rotondi sono perfetti per creare degli elenchi puntati. Se sbagliate potete riposizionarli perché sono di carta e sono in colori pastellosi e molto molto carini. Con una penna potete completare il vostro lavoro e in questo momento sto creando una to-do list in cui potrò segnare, non so, appuntamenti, cose da comprare, insomma, quello che volete. Utile anche per gli appunti di scuola, per i compiti o per decorare altre cose, tipo ad esempio i top loader del K-pop. Che cosa ne pensate? A me sono piaciuti moltissimo. Ce ne sono mille e mille nel rotolino, li ho trovati su Stationery Pal. Continua a seguire il canale e se ti va lasciami anche un like. Troverai sempre video sulla cancelleria. Quindi se ti piace, stai nel posto giusto, ciao! Anche da Kuki. Ciao!